La plastica fa bene l'allergia, d'olivo. 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 La plastica fa bene l'allergia. 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 E' questo wollten tutto. calma le cose, spengo un attimo la luce perché lo voglio dire, è come le impianti abnorme, eh Bob ti sei perso queste chicche, poche volte, poche volte, guarda te hai il privilegio di venire, voglio ovviamente lavoro, cos'è Marco questa? Questo è un 6-6, è un egg, dalle linee molto semplici, è stato lasciato un buon volume centrale, con un tail abbastanza voluminoso, permissivo, il nose stringe leggermente, lo scupperò che è moderatamente accentuato, diciamo, poco accentuato, quindi è una tavola facile, veloce, parte bene, una buona larghezza generale, il bordo qui verrà un po' pieno, con un filo abbastanza comunque alto per permettere, vista la galleggiabilità, l'ampia galleggiabilità della tavola, per permettere la tenuta quando sia in parete perché se no si scivolerebbe giù, di base è una tavola ganza, cioè proprio divertente, facile e cambiando il bello di queste forme qua, il bello di questa outline è che cambiando la distribuzione del volume, la forma dei bordi, cioè spinando di più il tail, accentuando un pochetto lo scupperò, cambiando la forma dei bordi, si ha una tavola per le onde, in una certa misura, con una certa importanza, insomma, sta, 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 come se sei maschio, come se sei maschio, è il modello nuovo, o è già, no, no, questo è il modello, questo è il modello free fluid, proprio in, un onore in virtù del fatto che si è libero da di fluidificare dove ti pare, una sola, si, 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 vabbè, quindi non è la nuova connessione a zone inverno, no, 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 è romantica, però le cose vecchie, se si fanno il lavoro comunque, ti vedo preparato, funzionano bene, sempre preparati, sul lavoro, si, vieni, in realtà nella vita cosa fai? Ciao, saluto i miei amici in Argentina, che sono oggi qua, ma buona, dai, al prossimo anno, al prossimo anno, viva il barriero di Marina di Pisa, bravo, no, anzi, scusa, perdonami, fermetemi, un grazie a Michele di Ola che ha fatto una scelta, non temare, io ci voglio venire a vivere qui dentro, grande, grande, veramente, ho fatto un ottimo lavoro, e bravi voi, e bravi tutti, e bravi tutti, ti fa l'amore, va bene, allora io riporto via i miei strumenti,